Ancora cronaca, ennesima aggressione in corsia, un gruppo di donne picchia, una dottoressa che sta visitando una loro parente al San Giovanni Bosco di Napoli. La vittima è in condizioni serie con una prognosi di 30 giorni, drammatico il suo racconto. Anna Testa. Il malato era su questo lettino e i familiari attorno, ho chiesto di accomodarsi fuori. E la zia del ragazzo da quella posizione ha cominciato a sferrare calci e pugni verso di me. Aggredita ieri sera, mentre al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, stava svolgendo una consulenza chirurgica. Le donne che l'hanno aggredita si erano introdotte aggirando tutti i divieti. È stata bloccata dalle guardie giurate. La guardia giurata si è posizionata in questa maniera pur di avere il blocco di bloccare senza toccare. Trauma facciale, rottura del setto nasale e varie contusioni. Il medico se la caverà con 30 giorni di prognosi. La direzione generale dell'Asla Napoli 1 ha già avviato una verifica interna per fare luce sulla vicenda. Tutti i colleghi sono stati soggetti a aggressioni più o meno importanti, verbali, fisiche. Non si riesce assolutamente a contenere i faci norosi. Si tratta della 66esima aggressione subita a Napoli dal personale sanitario dall'inizio dell'anno. A livello nazionale però le cose non vanno meglio. Dati IMSS parlano di tre aggressioni al giorno, denunciate. 1.200 solo nel 2018.